Salve ladies and gentlemen, io sono Phoenix e vedo il bentornato su Final Fantasy XV Allora, oggi faremo la missione dichiarazione di guerra, quella dove dovremo andare a distruggere un avamposto dell'impero Per cui impostiamo il navigatore, missioni, dichiarazione di guerra, possiamo farlo velocemente Va bene, 5 minuti di strada e risparmiati, ci sta, ci sta, ci sta E intanto ne approfitto per parlarvi di una cosa, perché l'altra volta abbiamo detto che quest'oggi doveva esserci come episodio Le missioni secondarie, la caccia, le robe così Però, parlando anche con il buon Konagakurno Filpato e ascoltando un suo consiglio Penso di evitarvi il più di queste missioni secondarie Nel senso, le cacce quelle importanti, quelle dove c'è magari il mostro quello unico Ve le porterò tutte, quelle sicure Mentre con le missioncine del caso deve solo andare in zona A Uccidere il mostro e tornare in zona B Me ne volevo risparmiare così viene un po' più snella come serie Riusciamo magari a vedere la fine del gioco prima del 2000 mine E intanto che bello che è l'UCIS qui Sì, poi anche le altre missioni alla fine è solo di soltanto andare in una zona Trovare l'oggetto e tornare indietro Non è che sia così interessante Magari potrei valutare più avanti Magari una volta finito, farlo magari in NG Plus E portarvi tipo guida Dove trovare tutti i mini video Dove trovare tutti gli oggetti delle missioncine Però deve essere una cosa carina Però per la serie principale Volevo concentrarmi di più adesso su missioni o comunque cose abbastanza fighe da vedere Per cui ora che ci siamo chiariti Dirigiamoci di Ortamont Dalla nostra amica Qui, sì Intanto qua vedo che c'è un'altra missione da poter fare Ho perduto che avrei evitato le missioni secondarie Ma visto che ci siamo Che possiamo parlarci Con Chi sei? Ah tu, Dave Ok, quindi Semplicemente missioni secondarie sue Insomma il suo filone delle piestrine D'accordo D'accordo Tanto beh l'abbiamo sbloccata Poi vedremo quando la faremo Me la farò io per conto mio Sì appunto Inoltre che stiamo qui a Cincistiare cercando Oggetti in giro per la mappa A random Quindi Signorita 330 metri Ah, ah, cos'è qua? Frammento metallico Buono Adesso Dovevo raggiungere Quella zona Vediamo la mappa Ok È vicinissimo È vicinissimo Vicinissimo Andiamo Che cosa è la regalia? Qui il segnalatore Che mi dà un fastidio bestia Vedermelo Che è tolto È una cosa che mi dà urto Anche su Skyrim Lo odiavo come cosa Quando non si toglieva da solo In automatico Allora 250 metri Non abbiamo fatto grosse Modifiche sostanziali Perché L'ultima volta Ci siamo lasciati Ho giocato un bel po' Per conto mio Per fare un po' di miscini secondarie Al punto di quelli caccia Minori E siamo riusciti ad arrivare Nello 16 Abbiamo fatto parecchi Sbloccato parecchie abilità Soprattutto di statistiche Quindi abbiamo potenziato Magari punti abilità Che otteniamo Facendo determinate cose O La riduzione della magica Quando ci si schiva O robe del genere Non grossissime cose Però Sempre una mano Potrebbe darci E come equipaggiamenti Pien o male è rimasto quello Trovato soltanto Una Una banda Per Pronto Come vedete Ora parecchi 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 HP E intanto Qua siamo arrivati Quasi Sì Quasi Anaka Siete bellini voi Sembrate anche Non Non aggressivi Ma che carucci Sono tipo delle Giraffe New Vediamo attaccano Ok Ah Non mi aspettavo Di venerdoti Ok Ha da solo Yurikor Va bene Proviamoci Ci metto un po' Di disagio Stare con La guardia Di nostro padre D'accordo ragazzi Questa è l'impressione Che mi ha dato ora Questo messaggio Anche tra parentesi Abbiamo Così Ne hai da imparare ragazzi Lara lo faceva così Trick e track Non è cosa del genere Praticamente si fa Molto Per Diciamo Un terzo del gioco Si passa Tra i passaggi stretti Con L'ultimo Tomb Raider Ma Torniamo D'accordo E' un buon piano Effettivamente Di là Cosa vedono I miei occhietti Una gran pozione Male non fa Male non fa Male non fa Ah si Vi lo Dunque Mi 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 piace I miei bicchetti Vi ho trovato Parchi danari Oh Ah Ma questi sono easy Sono di livello 3 Mi serviamo facilmente Proprio Opla 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 No Tengo un core A ver Si Dei Dulce Mi alivino Uh 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 Ah Male 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 Malissimo Malissimo Maledetto Corro D'accordo Siamo recuperati Ah di qua Perfetto Qua voglio vederci Qualcosa Possiamo recuperarci Magari Mi pare di no Musica Tenta è anche bella Bella cattiva Adesso Quindi Siamo in un'ultima Della zona In male Non ci permettere Nei che Di spingolare Così tanto E quindi Tiamoci una mossa E vediamo Che cosa Si inventerà Questo Caro Final Fantasy Può scopirci Posso scopirci Oh 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 I cecchini L'avevo fatti Uh L'ho già sistemato Per bene Questo fa male Fa molto male Fa molto molto male E' un'ultima E' un'ultima bravo, mi piace, mi piace molto tutta a scuola per il nostro caro principio da questa cosa ah ah no 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 prima c'è chi? ok lui è morto ok lui è morto attenzione e va bene allora vediamo se abbiamo un etere se uno è un vero peccato però ci serve non ho potuto farlo fin da subito una cosa del genere e è un nome rotto però eh così bene andiamo no immagino che siamo venuti da qua noi sì sì signori bel casino ste mappe però lui si aspetta qua potevamo anche immaginarcelo dai vi odio allora complesso multiproteico qua non c'è niente, niente di qua di là dobbiamo andare eh di là dobbiamo andare eh l'azione tu? Loki eh 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 non c'è niente di qua non c'è niente di qua non c'è niente di qua quindi ho preso il blindato Lorica allora cosa sei debole al tuono e alle lance e alle dague allora non ho capito perché non ce l'ho equipaggiata ma Ga e Bond non c'è niente di qua oh oh quanto male però ok ahia ahia ok dai tu vediamo credo dovrebbe essere facile ok no ok ok oh è tutto pronto ah 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 non mi fregate più voi così 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 anche biondato no maledizione perfetto allora noi ci acquisiamo lo spadone adesso allora ci facciamo Ignis giù maledizione gran pozione Noctis così è tocca a te tocca a te Mutu azione Bello così Tocca a te Mutu azione, ottimo Dai, calmi Uuu, questo gli ho fatto male Quindi è un momento di un'orma Ancestrale Minerabile Non sto capendo un cazzo Non sto avendo Vabbè, però non avendo sotto il piede Quindi ci viene Non è che da diventarsi Nessun momento Soltanto a toccare da lì Siamo stati bravetti Più o meno, dai Eramo un po' over livellati Per questa parte Però ci sta Ci sta Ho trovato anche una bella Una bella armina Ancestrato Ok, core Beh, un bel po' di esperienza abbiamo ottenuto Dai Ci sta Ci sta tutta Anche un trofeo Anche un trofeo Anche un po' di esperienza Anche un po' di esperienza Questa è soltanto l'inizio fine del capitolo addirittura va bene ma ci raccoglievamo allora salviamo questa mi piace e questa d'accordo bravo pronto mi sei piaciuto mi sei piaciuto molto capitolo 3 signori e signore un mondo da scoprire la formidabile potenza bellica dell'impero rende estremamente arduo riconquistare il cristallo per uscire nell'impresa Noctis ha bisogno dei poteri della sua stirpe che lo attendono in nuove terre ok quindi la nuova zona di mappa di riverrò sbloccata molto 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 simpatico tra le altre missioni che voglio portarvi comunque sono tutte le mie armi ancestrali le armi ancestrali cacce superiori o comunque robe un po' strane da vedere un po' particolari comunque abbiano un po' di sfida da poter fare quello si quello senz'altro un mondo da scoprire e è bello mi piace molto sto gioco cioè mi sto proprio divertendo anche l'altra sera mi sono messo qua e non mi ero reso conto che erano diventate già già le tre orca troia senza rendere conto grazie il potere del segno bravo e quella dietro che Immagino fosse un personaggio importante Troppo caratterizzata Come stile Per non essere un personaggio così a caso Quella Ravos Che forse ho capito chi era Se ben ricordo Non voglio ancora vedere nulla Voglio vedere se verrà fuori Qua Qua, qua, qua Dove stiamo andando, signori? O, non? Non è che, non è che Ma sicuramente La storia che sta a metà Ma è una cosa che sta a metà Non c'è Ma, non c'è La storia che sta a metà Ehm, ma Un po' La storia che sta a metà Che figliata Dai siamo quasi pieni Queste scuse per attraccare Oh addirittura Ma nel stesso momento per avere la lebrezza Della guida manuale Ce l'ho fatta già fare prima Va bene Allora Contriamo subito missioni Per ora niente Quindi mappa Ok ci siamo portati Nella zona nuova Quaggiù Stiamo andando verso Klein da quanto ho capito Credo Potrei sbagliare tantissimo Oh Duskai forse Noi qua siamo a Duskai per esempio Perché questo è il confine Delayed Qua siamo a Duskai Qua c'è Klein Infine qua su Vesperpool Oh Con Destinos Wells Cose mai mai viste Ok allora Direi di vederci un attimo Che cos'è la mis- No Di vedere un attimo Chi è che rompe il telefono Iris La sorellina di Gladio Se ben ho capito Ok 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 Che c'è verbiutokiedere di te Chocobo Va bene dai Ah voi ciò D'accordo allora Prima di perdersi in troppe cose Tanto cos'è sto esamine? Olio Quint D'accordo Io lo vedo Ah questa Questa è questa Che sto canticchiando Ok ma non ne ho idea Sai? Sani? 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 Ok Quindi scusatemi sono curioso di vedere che cos'è questo tipo di missione Oh che è questo tipo di missione di ricerca per Gladio per potenziare le sue statistiche Forse Ovviamente C'ha del rame D'accordo D'accordo Quindi anche questa è un'altra missione secondaria Si farà immagino Conoscere il territorio E iniziamo a A sbloccare diverse Diverse missioncine Un po' troppe Per i miei gusti Da lasciare così in sospeso Sono lo stellare Fiaschetto perciò come un po' la magica Mega passione, gioielli, futuri Uuh, tante delle robine Allora Dicevamo sì Mi stavo perdendo Quindi direi che per oggi possiamo concluderla qui La prossima volta vedremo se fare la missione di Chocobo o altro Vedremo un attimo come girerà la cosa E niente Alla prossima Ciao a tutti